buonasera buonasera a tutti spero che mi si mi senta bene come molti sapranno sono collegato dalla spagna dalla città di cordova città in cui vivo da quasi 19 anni sono tanti anche se non li sento evidentemente non posso che esprimere profonda gratitudine per l'invito a partecipare a un evento di questa portata e soprattutto per gli obiettivi che questo evento si prefigge devo approfittare anche per ringraziare la professoressa petrera che con il suo intervento ha letteralmente spalancato le porte al mio dato che ha parlato in modo reiterato e contundente di multidisciplinarietà la mia specialità è l'archeologia in tanti si chiederanno cosa ha a che fare l'archeologia cosa hanno a che fare l'archeologia e di diritti umani l'archeologia e la famiglia evidentemente per me questa è un'opportunità d'oro un'opportunità unica per dare diffusione a una serie di iniziative di cui magari non tanti sono a conoscenza e che mio dovere sostenere non solo partecipando in tante di queste iniziative evidentemente come archeologo come ricercatore ma anche grazie iniziative di confronto di approfondimento e riflessione sensibilizzazione come questa per cui siamo qui oggi io così come ha fatto il collega il professor vanin utilizzerò una presentazione perché credo che a volte il supporto delle immagini è un alleato importante anche per arrivare al cuore perché no dato che è importante soprattutto per chi decide di dedicarsi al settore della famiglia dei diritti umani vivere con partecipazione emotiva vivere con empatia ed è quello che anche come uomini di scienza come amanti della ragione della prova materiale incontestabile inconfutabile tanti di noi soprattutto tra i presenti continuiamo a fare da anni dunque io ho qui una presentazione ora condivido lo schermo dovrebbe funzionare ci facciamo dare una mano dall'ingegnere trambustica devo già prealvertata eccoci ci siamo sì sì vediamo dicevo qual è il nesso tra archeologia e diritti umani archeologia e famiglia le foto che vediamo in questa prima slide sono foto di familiari scomparsi di persone scomparse di cui non si è più saputo niente in occasione di una guerra se è vero che l'archeologo forense una figura nuova nel mondo delle indagini sempre più presente nell'ambito di equip di staff interdisciplinari multidisciplinari anche in italia fortunatamente cosa che in spagna viene sempre più spesso e questo quello diciamo che mi avvicina a questo mondo la mia presenza in territorio iberico sono in tante le persone che rivendicano interesse da parte della società per quello che riguarda la ricerca di resti di persone che non hanno avuto occasione di rivedere e di abbracciare di cui non sanno nemmeno se è possibile se sarà possibile possedere un resto materiale su cui versare le lacrime è importante nei casi delle persone scomparse avere a disposizione la notizia della certezza del distacco del distacco fisico la certezza dell'allontanamento di una persona che non si potrà riabbracciare proprio per poter porre fine al dolore causato da questa distanza quando parliamo di guerre parliamo soprattutto in questo caso nel caso che ci interessa di guerre civili perché perché la guerra civile non è una guerra tra uomini in divisa la guerra civile è una guerra fra amici fra familiari è una guerra fra gente che magari in un periodo in un momento determinato era stata parte dello stesso gruppo aveva militato nello stesso bando e all'improvviso per una serie di malintesi di modi di intendere la vita la realtà queste persone si allontanano secondo uno studio del quotidiano il mondo fra il ventesimo e l'inizio del ventunesimo secolo le guerre civili hanno causato 20 milioni di morti accertati perché ripeto non sono uomini in divisa per cui è un censimento difficile da realizzare e 67 milioni di rifugiati parliamo di el salvador ruanda burundi tantissimi paesi russia finlandia la spagna l'italia perché la seconda guerra mondiale in italia è stata anche una guerra civile è stata una guerra fratricida sono stati diversi punti di vista che hanno rotto hanno fratturato il paese per tanti anni e l'afghanistan il congo l'eritrea la somalia sono numeri a cui magari non non avevamo pensato anche perché sono fatti che non sembrano coinvolgerci in prima persona sembrano cose lontane nel tempo nel tempo e lontane geograficamente e non è così tant'è vero che ad esempio qui in spagna questa è una mappa della penisola iberica e i puntini rossi gialli e verdi rappresentano le fosse comuni individuate quelle verdi sono quelle in cui sono già stati svolti dei lavori di scavo e studio dei resti materiali quelli gialli sono le fosse su cui si lavorerà a breve quelli rossi invece sono le località in cui ancora non è stato possibile lavorare per la ricerca di questi resti umani parliamo di 9 mila vittime della guerra civile resumate negli ultimi 19 anni per i prossimi cinque anni è previsto un lavoro di recupero di 25 mila corpi corpi umani 25 mila corpi umani vuol dire altre 25 mila famiglie che non sanno assolutamente niente dei propri cari che non hanno potuto riabbracciare zii nonni genitori e quella spagnola una guerra civile relativamente recente ripeto a noi sembrano date e luoghi lontani non ci sentiamo chissà identificati con questi casi ma sono più vicini di quanto non sembri anche perché anche noi abbiamo i nostri morti in guerre civili in guerre ufficiali ricordiamo le tragedie legate a una storia relativamente recente ricordiamo le fosse degli italiani uccisi dai partigiani di tito quindi le operazioni pionieristiche di scavo in fosse che interessavano anche noi come cittadini italiani ricordiamo i riesumati nei lager tedeschi questo uno studio del 2014 due giorni fa e non dimentichiamo i resti dei soldati militari dell'armir che ancora giacciano sulle rive del don fortunatamente esistono istituzioni ma anche associazioni di ricercatori di specialisti della materia di archeologi antropologi che hanno deciso di dedicare tempo e risorse a volte anche risorse personali allo studio alla ricerca di questi resti che all essere riportati in italia costituiscono un un motivo di gioia evidentemente per le famiglie e un motivo per continuare a lavorare in questo senso è il dramma che ci ricollega ad un'altra delle grandi tragedie degli ultimi anni il dramma della degli migranti il dramma di chi decide di superare la barriera del del mediterraneo alla ricerca di una vita migliore non voglio entrare in dettagli che potrebbero anche come dire rompere l'equilibrio rompere il filo del discorso perché in tante volte quando si parla di questi disperati si parla delle mafie che approfittano del loro dolore però non dobbiamo dimenticare che dietro queste mafie e le vittime reali di tutto questo processo sono esseri umani donne bambini tanti bambini tantissimi minori e gli studi statistici la tristezza delle cifre no i numeri ci parlano di una quantità una quantità inimmaginabile di fosse comuni fosse comuni che dovranno essere studiate fosse comuni che un giorno saranno oggetto di studio per risalire all'origine di chi è stato sepolto lì e l'alto commissariato delle Nazioni Unite parla di diritti umani a pezzi lì è l'antropologo e l'archeologo fra tanti altri specialisti che si deve far carico di questo dolore e deve contribuire dal proprio punto di vista a partire dalle proprie capacità e dalle proprie specialità a ripristinare una sensazione una situazione di equilibrio un equilibrio che è umanità non è altro non stiamo parlando di punti di vista se accettare l'immigrato o non accettarlo perché decidono di dare il salto si tratta di umanità per questo io mi sento estremamente soddisfatto e orgoglioso di quello che faccio del mio lavoro di quello che decisi del percorso che decisi di intraprendere ormai tanti anni fa anche se non mi sembrano tanti quando qualcuno propone un'equipe uno staff di antropologi e archeologi argentini i colleghi argentini in questo caso per il premio nobel per la pace chi si chiedeva qualche minuto fa cosa centrassero gli archeologi gli antropologi con i diritti umani credo che con questa testimonianza ha la prova provata del fatto che anche noi come specialisti ci sentiamo molto coinvolti in quella che è la difesa di questi diritti siamo totalmente convinti che l'aiuto da prestare a queste famiglie è imperativo non è una scelta è un modo di intendere la nostra professione e di concepire le nostre vite lontani forse da quello che è da quella che è la visione accademica dello scienziato del ricercatore pur importante per carità però chi decide di sporcarsi le mani forse sta facendo qualcosa in più rispetto a chi ha deciso di dedicare la sua vita solo ed esclusivamente alla ricerca pura ed è forse per questo che ho vissuto con enorme soddisfazione e grandissimo piacere l'invito a partecipare in questa serata in questa in questo evento è dare ad un master come quello in archeologia e antropologia forense un aspetto una connotazione una caratteristica anche etica morale al di là di quelle che sono le competenze e le conoscenze di chi mi accompagna dei docenti che sono di una caratura impressionante e di cui sono fiero di essere collega in questa attività in questa avventura che iniziò quasi tre anni fa siamo alla terza edizione vorrei concludere per rientrare nei tempi con un messaggio che credo che è di una semplicità più unica che rara però di quei messaggi che arrivano dritti al cuore sarà capitato a tutti di leggere una scritta sul muro di passeggiare per strada e all'improvviso leggere qualcosa che ci colpisce e ci fa riflettere io ricordo tra le mie letture giovanili la passione per gli autori russi Tolstoi, Gogol, Dostoevsky Dostoevsky diceva la bellezza salverà il mondo un giorno ho letto sul muro l'amore salverà il mondo fidatevi ed è un messaggio di ottimismo grandissimo un messaggio che credo arrivi a chiunque e nell'epoca in cui viviamo con quello che siamo costretti a vedere ad affrontare tutti i giorni credo sia ancora una volta imperativo credere a questa a questa esortazione e fare di tutto perché le nostre competenze quello che ci ha passione che ci ha reso quello che siamo diventino strumento al servizio del bene perché la bellezza salvere il mondo e l'amore salvere il mondo si riferiscono a questo il bene è quello che muove tutto spero di aver di essere arrivato dove volevo arrivare vi ringrazio tantissimo ringrazio per quelli che mi hanno ascoltato e per quelli che hanno sentito quello che anche io sento grazie grazie a tutti